Ben ritrovati a tutti da Edoardo Ferrara di trabimeteo.com. L'Europa centro-occidentale rimarrà alle prese con una circolazione di bassa pressione, che rinnoverà delle piogge e dei rovesci sparsi, in particolare tra la Francia, la Spagna, ma anche sull'Italia. Nevicate fino in pianura sono attese sulle pianure russe, per l'area artica in discesa lungo il bordo orientale di un campo d'alta pressione, che invece favorirà tempo stabile tra Baltico, Polonia e Balcani. Andiamo nel dettaglio dell'Italia, che vedrà una giornata dall'instabile alla perturbata, in particolare sulle regioni settentrionali avremo delle precipitazioni diffuse con ulteriori nevicate sulle Alpi, ma vedete tempo instabile penalizzerà anche il centro-sud con acquazioni comunque alternati a delle schiarite. Andiamo a vedere ora le temperature partendo dai valori minimi, che non subiranno sostanziali variazioni, vedete, da nord a sud. Per quanto invece riguarda le massime ci attendiamo un ulteriore lieve calo, soprattutto sulle regioni settentrionali, a tratti anche sul versante tirrenico, ma vedete non farà particolarmente freddo, anzi al centro-sud saremo ancora leggermente sopra le medie del periodo. Spostiamoci ora nel dettaglio previsionale partendo dal nord Italia, che vedrà appunto una giornata instabile o perturbata con precipitazioni diffuse, che assumeranno carattere nevoso sulle Alpi, mediamente oltre i 500.000 metri. I fenomeni invece saranno più occasionali tra Basso Veneto e Romagna, con spazio anche per qualche apertura. Spostiamoci adesso alle regioni del centro, dove il tempo sarà spiccatamente instabile, ma a differenza del nord i fenomeni sparsi saranno alternati anche a qualche apertura. Vedete, nevicate sull'Appennino, mediamente oltre i 1.000, 1.200 metri. Spostiamoci infine alle regioni meridionali, con tempo del tutto analogo a quello del centro. Vedete quindi marcate stabilità, con occasione per dei acquazioni sparsi, e anche qui nevicate sull'Appennino, mediamente oltre i 1.100-1.400 metri. Tempo infine stabile anche sulla Sardegna, con delle piogge, più probabili sul comparto occidentale dell'isola. Bene, per adesso è tutto. Per tutti gli ulteriori aggiornamenti vi ricordo che potete scaricare anche l'app gratuita per tablet e smartphone. Grazie a tutti.